lo sapevi che circa il 40 per cento degli errori e dei problemi di windows sono imputabili a delle ram malfunzionanti ebbene tempo fa avevo presentato in uno dei miei primi video un sistema per effettuare la diagnostica della ram purtroppo il video era poco chiaro mal girato molto vecchio insomma te lo faccio rivedere nel dettaglio questa volta con un video dedicato solamente a questo sistema qui che peraltro non richiede l'installazione di alcun programma esterno allora ti senti pronto iniziamo sul nostro windows andiamo a premere la combinazione di tasti windows più r nella finestra che si apre andremo a digitare md sched esattamente come l'ho scritto io clicchiamo quindi sul tasto ok e vedremo che si aprirà questa finestra qui tutto ciò che dovremo fare sarà cliccare sul pulsante riavvia ora e individua eventuali problemi una volta fatto il computer si riavvierà e dal riavvio ti troverai di fronte alla diagnostica di memoria di windows che farà tutto quanto da solo attendiamo il termine dell'operazione ecco fatto come vedi al termine dell'operazione il computer si riavvia automaticamente tutto ciò a cui dovrai prestare attenzione sarà quella scritta che ti ho evidenziato nella schermata precedente e nel momento in cui dovesse eventualmente segnalarti degli errori di ram porta il tuo computer da un tecnico o provvedi autonomamente alla sostituzione della barretta di ram questo video fa coppia con quello precedentemente esposto in cui avevamo visto come diagnosticare i problemi di windows che possono portare anche alle schermate blu e che per tua comodità ti lascio linkato qui in alto ebbene non tutti i problemi sono risolvibili dal punto di vista software come abbiamo visto alcuni possono concernere le periferiche ma tantissimi nella casistica generale riguardano proprio la ram ebbene con questo metodo potrai effettuare una diagnosi molto semplice come hai potuto vedere e veloce per poi poter correggere eventualmente i problemi di ram come ho detto prima o portando la macchina da un tecnico o sostituendo la barretta incriminata e detto questo come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima